Il primo fine settimana post lockdown inizia nel migliore dei modi sul fronte della lotta al covid-19. C'è un doppio zero infatti nel bollettino della regione alla voce relativa a Prato. Nessun nuovo contagiato e nessun decesso a mezzogiorno di oggi rispetto alle 24 ore precedenti. Restano così 559 casi di positività in città e provincia registrati dall'inizio dell'epidemia e 45 i decessi, tre soli dei quali nel mese di maggio. Si conferma quindi un trend che ha di fatto appiattito la curva dell'epidemia e soprattutto svuotato l'ospedale. Ma numeri di oggi sono rosei anche se guardiamo all'intera Toscana dove si registrano solo 12 contagiati in più rispetto a ieri, due dei quali provengono dalla campagna di test sierologici avviata alla fine di aprile. I tamponi analizzati oggi sono 3.666. Si registrano purtroppo due nuovi decessi, entrambi uomini con un'età media di 76 anni, residenti a Firenze e Livurno. I gueriti a livello regionale crescono di 30 rispetto a ieri, facendo calare gli attualmente positivi a 1.766. Di questi, 1.569 sono in isolamento a casa perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano del tutto privi di sintomi. Scendono sotto quota 200, per l'esattezza 197, i pazienti ricoverati in ospedale, di cui 40 in terapia intensiva. È il punto più basso dal 10 marzo per le terapie intensive.